Ciao a tutte bellissime, allora scusatemi l'aspetto dei capelli Scusatemi la luminosità ma non posso aprire perché non è che fa caldo, fa caldo è dire veramente poco Questo qui è il video sulla mia postazione, quindi ora vi giro e vi faccio vedere tutto 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 Vi mando un bacione, ti vediamo dopo, ciao Allora ragazzi, vi ricordate che la mia postazione era questa, avevo cambiato sul secondo cassetto C'era tutta 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 la mia postazione, allora trovavo che era un pochino confusionaria Infatti qui ho messo tutte le champusaglie, qui sotto da sistemare tutti gli smalti E qui tutte le cose per la nail art Allora, la mia postazione l'ho spostata di qua Vedete che è diventato un minuscolo ancolo molto più ordinato Ed ora vi farò vedere tutto quello che c'è all'interno Allora, però ci spostiamo credo... Non mi vedete bene, proprio bene bene Allora, aspettate che li metto in terra, apriamo subito Allora vi mostro cosa c'è all'interno della cassettiera Allora, innanzitutto vi volevo dire Vi volevo dire, questa cassettiera Non l'ho presa da Muji Non l'ho presa da nessun... A parte che si vede Non l'ho presa da nessun sito, da nessuna parte Cioè, sì, da una parte sì L'ho presa a risparmio casa Allora, praticamente, secondo me non serve andare da Muji Così a prendere queste cose Sì, ok, loro sono specializzati in queste cose Però, vabbè Io l'ho presa da risparmio casa E a 2 euro e 99,1 C'erano anche degli altri modelli Quelli con le belle alte Con tutti... dei piccoli cassettini Però ho preferito prendere questi Perché occupava meno... prendere questa Perché occupava meno spazio E mi sembrava più comoda e più capiente Allora È strutturata in questo modo Non so se si vedrà però Ecco, sì È strutturata così In tre cassettini Ecco, vedete Il primo Il secondo Il terzo Allora Qui sopra Non voglio Far rinascere lì Qui sopra Ha un altro, diciamo, sportellino Questo... All'interno di questo sportellino Vi faccio vedere tutto quello che c'è Allora Ho posizionato Tutti i miei pennelli Qui quelli un pochino più Lunghi Qui quelli più piccolini Vedete Questi magari da portare in viaggio Metti a fuoco Tipo da blush Così Io uso molto questo Che secondo me è comodissimo Ha delle secole molto molto colte Anche gli altri, ok Però mi sembrano più colte Queste Ok, aspettate Sto facendo un disastro E poi c'è questo Lipo balm Lucida labbra Come lo chiamate A forma di bigne Che non ho mai usato Di cupcake Poi abbiamo qui Dei prodotti Che non mi entravano Nel primo cassetto Ossia Questo lip balm Un lip balm Alla Credo No Alla lavanda Vedete il colore Si vede? Si Poi Un altro Lip balm Questo però Alla rosa Ok Aspettate Con una mano un po' difficile Questo lip gloss colorato viola Questo Vedete? Un bellissimo viola Poi Quest'altro Lip gloss Però Rosa Senza che ve lo apro Ve lo faccio vedere da sotto Rosa E poi c'è Un temperino Per le matte Sporco Fuoco Sporco E quindi nulla Chiudiamo Vedete? Si chiude Così Carissima Nel primo cassetto Abbiamo Come si può vedere Tutti i miei prodotti labbra Che diciamo Non sono pochi Allora Da questa parte Abbiamo Tutti i miei Lip balm Burro cacai Porchissimi Infatti Li devo pulire Però ci tenevo davvero tantissimo A farvi la postazione Makeup Ho questo Della La bello Questa Della Planters Questo Dell'erbolario Che ce l'ho Uguale a Si ok Aspettate Chi ha scritch Poi Questo Dell'aliocrema Labrosan La bello Ancora E basta Poi Ho Il mio unico Rossetto Cioè Non è l'unico Ne ho un altro Sotto Anzi Ne ho altri Scusatemi Ah ok Mi sembrava che mi chiamavano Ok Questo rossetto Che ce l'ho Un altro sotto Comunque vi farò L'update Della Update Si dice così Non lo so Vabbè Della mia postazione Comunque Tra un pochino Perché devo sistemare Ancora un po' di cose Comunque Questo rossetto Della Deborah Ed è il numero 534 Ed è questo Aspettate Ok Questo colore Stupendo Se Lo metto a fuoco Vai No Non ci crede Questo colore Vello swatch Magari Eccolo Che io l'ho messo Per il saggio Appunto questo Ho messo Perché Non va via Nemmeno Con La parechina Perché davvero È ultra lasting Aspettate Ok Mi sembra La coppia Poi Di sopra C'è qui Ho tutti I miei lip gloss Ho questo Di Hello Kitty Però Funziona benissimo Questa diciamo Tinta labbra Perché guarda Vedete com'è Ve lo faccio vedere È un colore Che all'inizio Può spaventare Eccolo È questo colore Proprio Profuma di ciliegia No Fragola Sì di fragola Infatti Che non so Se si leggerà mai Non lo so Vabbè Però è la fragola E ora Vi faccio Dello swatch Perché io Lo chiamo Tinta labbra Ok Vedete È il secondo È questo qui Perché colora Almeno leggermente Le labbra Ed è un balsamo Quindi è Colora Però Le idrata Quindi Secondo me Questo qua È buonissimo Poi c'è Questo Lip gloss Della Mi Questo Della Leocrema Uno di Avon Il mio munico di Avon Questo Di Se ce la faccio girarlo Ok Di Debbie Questo di Alessi Bronte E questo di Eva Garden Che vi devo far vedere Nel video dei regali E ancora Mi devo fare Ok Bene Poi Nel secondo Cassettino Ho messo Tutte Ok Bellissimo Il mio piede Ok Scusate Tutte le mie Palettine E il mio unico Blush Rotto Che è il blush Della Maybelline Che mi ha dato Mia mamma Che a lei Sembrava un po' Troppo scuro E io gli ho detto Grazie mamma Me l'hai dato Quando già l'hai rotto Comunque Vabbè Questo di la Maybelline Che è il numero 67 Pink Gold Or rose Eccolo Poi Questa palettina Qui Che vi devo Swatchare E fare tutta la review Che mi hanno regalato Si chiama Shimmer Eyeshadow By H&M Dell'H&M E Ve ne devo parlare Perché appunto Me l'hanno regalata Poi io ho questa qui Di Gracie Che mi piace un tacco Molto scrivente Anche se Ho provato a ricompattare Un ombretto Perché mi si era rotto Vedete Qui Mi si era rotto Un ombretto Però non ce l'ho fatta Però bene Poi c'è questa qui Da quattro colori Della quadro Quadro make up Questa della flora Che è di Quando ero piccolina Però Scrive Abbastanza Io faccio Tipo delle basi Con questi colori Qui Poi Sotto Abbiamo L'ultimo Cassettino Ok Si sono spostati Perché in teoria L'avevo messi Molto bene Però si sono spostati Ok Ci sono tutti i miei prodotti occhi Ossia Bene L'ho messo dietro Il mio unico pigmento Che è bellissimo Si chiama Way of Joy Lost Eyeshadow Sweet Puff E poi Ho questi tre ombrettini Che sono sempre Di quando ero piccola Che io uso Tipo come illuminanti Perché Non colorano Né giallo Né viola Né azzurro Quindi io li uso Come illuminanti Poi c'è Questo ombrettino Qui di Deborah Della linea Deborah Life Giovannoni Un po' si è cancellato Scusatemi Ma Alcune scritte Non so se succede anche a voi Ma Si cancellano Questo colore qui E vabbè Dico allo specchietto Ma non vi voglio Acciaccare Ciao Arrivo Scusatemi Ho chiamato mia mamma Per il pranzo Poi Di qua Abbiamo un ombretto Della Deborah Che è il numero 03 E le mie uniche Due matite occhi Ossia Questa della Gracie Che mi piace Un sacco Molto cremosa Il numero 105 Mi devo sbrigare Perché tra un po' Mi scade anche la batteria Ok E questa qui Di Deborah La 24 ore Che è il numero 251 Ok Ora Riporto Questa della cascettina Arrivo Non in batter D'occhio Ma Mello Ok Devo far vedere Ancora una cosina Così Così non mi scade Più il 3% Via 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 Allora Qui invece Di lato ho messo Uno specchietto La mia poposca Che mi hanno regalato Un'altra poposca Che è molto vecchia E poi Aspettate Dietro Il mio stoccante Della flusse Che amo Adoro Sta Amo E quindi nulla Ragazzi Allora Spero che mi vediate Aspettate Mi devo muovere Aspettate Ok Quindi nulla Spero che il video Vi sia piaciuto Farò ancora L'update Non vi preoccupate Comunque nulla Vi mando un mattone Vi auguro Buon pranzo Ma tanto lo vedrete Oggi pomeriggio E un bacione Ciao